Bella a tutti ragazzi siamo James Game Stoop e oggi come vi ho promesso ieri siamo tornati con la FIFA Challenge E come potete subito vedere dal titolo troviamo i giocatori tarocchi Vi faccio vedere subito di chi si tratta Oh Lord, il barbuto, no, quello tarocco che ha 63 Poi troviamo Carvacal, un terzino potentissimo ma quello cinese non è un terzino e non è neanche potentissimo Sanchez, difensore, no fa veramente schifo Poi la leggenda del Real Madrid, l'altro difensore centrale troviamo Ah no non è Real Madrid scusate è del Paris Saint Germain, Thiago Silva, no non è vero Marcello Silva, che se inverti l'overall diventa il vero Thiago Silva Però questo è cinese Marcello che è un difensore centrale ma noi siamo terzino e sinistro Passiamo al centrocampo Troviamo Suarez, un altro Però è ancora un altro cinese Tantissimi Suarez abbiamo Poi troviamo Higuain, no il fratello Hazar, che leggenda Però il fratello di questo Hazar è la leggenda Poi in attacco troviamo Clinton Mata Che non c'entra niente perché lui è belga ed è nero Punta, l'uomo più forte di questa squadra Suarez Non è manco il fratello Però ha delle statistiche abbastanza buone C'ha la velocità, il tiro e il dribbling Però fisico fa schifo però va bene E poi L'attaccante sinistro Boateng Sono tre fratelli sono loro 90 di velocità 90 di velocità questo giocatore Potentissimo Ma ora cerchiamoci l'avversario Abbiamo trovato il mio avversario No, Aguero in prestito E poi gli altri fanno tutti schifo Però Aguero in prestito, no Ok, è abbastanza fattibile come sfida Ok, è iniziata Subito inizia malissimo Oh, la botta Questo c'ha Subito Aguero lo sfrutta Oh, Suarez, i pezzi Adizioni Clinton mata A spazio È lento come una capra Clinton mata Mamma mia che fenomeno Come il fratello non fratello Mamma mia, iniziamo benissimo Buona feo di Suarez Ti tosta Roppio che gol di Suarez Che battaglio Suarez Il montaggio Suarez Che gol di Suarez Ha saputo approfittare Adizioni C'è spazio per Suarez Vedo in mezzo a Sar Che schifo di cross Attenzione Calcio di punizione da buona distanza Parti Azar Il fratello di quello potente Corner Non male come punizione però Lagga tutto, va bene Attenzione Il mio avversario ha quittato Non ci posso credere I tarocchi fanno addirittura quittare Incredibile Fanno quittare quindi In questi episodi ci saranno due partite Per la prima volta in questo canale faremo due partite E ora avanziamo con la prossima partita Va bene così Eccolo qui al mio avversario Acqua un frano in prestito E altri due pippe Però è molto fattibile Molto fattibile A tantissimi giocatori che non sanno giocare nei propri ruoli Però va bene Fattibile Iniziamo la partita Possiamo iniziare La partita Se FIFA vuole Ok Può iniziare Questa partita Se il mio avversario la inizia Ok Forse ci siamo Subito fallaccio Attenzione in mezzo Grande Marcello Che stacco Suarez Ce l'ha la velocità Il più forte della mia squadra Fa schifo Uh C'è un regalo della difesa Hazard Ha visto scattare Suarez No Uh c'è un altro regalo Higuain Fuori gioco Sì sì giusto giusto Sì sì giusto Marcello Mi ha quanti suare So in campo Ma no Ma ti ho detto di fare il pezzo No di fare il passaggio Scocco Ragazzi Scrivetemi nei commenti Se volete Altre FIFA challenge Di questo genere Di squadre Così strane Tipo O i tarocchi O che ne so Altre O giocatori Di cognome strani E Oppure Che c'hanno una faccia strana Fuori gioco ci sta Guarda quanto cacchio lagga Poteng Recupera palla Che schifo di colpo di testa Sta laggando troppo Non mi piace così Bel tiro di merda C'è ancora il gol Di Mario Suarez 1-0 Così Gol bellissimo Assista Di Ligua In E gol Se si può stare a marla Si può stare a marla 1-0 Sì così Mamma mia Mi sta piacendo Sta squadra O trovo tutte le impegni O è forte sta squadra E c'è ancora il gol Sempre lui Solo lui Il fratello del cane Mario Suarez Segno è ancora lunghi Con il suo testo musicale Tu a te Di Tarot 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 Oh guardo straordinario Meglio di quello vero Non è vero Attenzione Oh che difesa Solida Così Iguain Riparte Mario Suarez Mario Suarez Suarez Triple Il mio straordinario Mario Suarez Molto Suarez Suarez Prendo nella punta C'è un altista Che cosa Sì 3-0 Gita Mamma Mamma Chista Non ci credo Un'altra rifletza Di Suarez Che fenomeno Che fenomeno Che controllo Che potenza Che precisione Tutti qualità Di Suarez Ah già Finisce 4-0 Il primo tempo Tripleta Di Suarez E Mario Suarez I Cugini Di Suarez Si fanno sentire 4-0 Il primo tempo C'è il gol Di Boateng Cinesi Emanuel Boateng 1-5-0 1-5-0 Che giocatore A rapida Sì Da 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 Fenomeno So quasi meglio Dei fratelli Quasi Non ci credo Sono riuscito A segnare Con Clinton Mata Clinton Mata Quanto è che spezza Di Juarez Assista Infezza Rivalata Quasi Da Pugnale In nottezza Tutto Il suo 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 No Antissimo Sta per Piscolare Non vado vado eventi chance Segna S scorcher lui E che scudo Eris alleine Mamma mia Che gol di Mario Suarez Mamma mia La difesa è anche ottima Howard E finisce Howard è stato anche bravo Finisce così però 8 Ah 0 Quanti gol ha fatto Suarez? Mi pare 5 gol No 4 gol 4 gol di Mario Suarez 3 2 4 5 Ok ragazzi Il video finisce qui Vi invito a lasciare un bel progetto in su Iscrivervi al nostro canale Iscrivetevi nei commenti Quali challenge volete Nel prossimo video farò anche qualche partita con la serie argentona A 20 like Continuo con la Rotten Division 1 E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti